Restano in assemblea permanente e dentro la fabbrica di inverter fotovoltaici. Alla FIMER di Terra Nuova Bracciolini prosegue infatti l'occupazione. Una scelta arrivata dopo che il Tribunale di Arezzo si è dichiarato incompetente a decidere sul futuro dell'azienda ed ha trasmesso le carte al Tribunale di Milano, dove a fine 2021 era stata spostata alla sede legale. Una decisione, quella dei giudici Eretini, che è arrivata a poche ore da quella che sembrava la svolta sulle sorti della FIMER e dei suoi lavoratori, ovvero l'accordo trovato tra la proprietà e il gruppo Greybull McLaren, che prevederebbe l'uscita di scena della famiglia Carzaniga e l'immissione di 50 milioni di liquidità nelle casse di FIMER, di cui dieci subito. Adesso invece spetterà ai giudici milanesi esprimersi in merito al procedimento volto alla dichiarazione di insolvenza. Nel provvedimento, infine sempre, il Tribunale di Arezzo conferma l'esistenza del nuovo accordo tra FIMER e Greybull McLaren, dichiarando però l'inamissibilità dell'istanza. Insomma, un finale che lascia ancora nel limbo i 280 lavoratori dello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini.